Stiamo combattendo una guerra e nonostante numerose battaglie vinte il virus esiste ancora. Ad oggi il coronavirus ha causato 4.240.000 morti e l'unica arma per combattere questa pandemia è il vaccino. Io l'ho fatto per salvaguardare me, la mia famiglia, i miei nonni, i miei parenti. Il vaccino ci rende liberi. Il 2021-2022 deve essere l'anno del ritorno definitivo a scuola. Ho voglia di rivedere i miei amici, di abbracciarli, di parlare con i professori e discutere, di provare empatia. E proprio per questo io mi sono vaccinata. Il vaccino è una scelta universale che tutti dobbiamo compiere per ritornare a vivere la nostra vita di sempre. Dall'inizio della pandemia ho appreso di colleghi e colleghi che sono scomparsi a causa del coronavirus. La scuola ha risentito pesantemente della pandemia, in tutti i sensi. Dobbiamo evitare di cominciare un nuovo anno scolastico come quelli che si sono appena conclusi. Sarebbe nocivo psicologicamente e fisicamente per noi docenti e per i nostri allievi. Vacciniamoci e torniamo a essere liberi. Grazie a tutti.